Eeeeeee what's up a tutti c'è ormai benvenuti da giocherina in questo nuovissimo e incredibile episodio su Supermarket Simulator Intanto ragazzi ringrazio chiunque abbia apprezzato il primo episodio, chiunque abbia lasciato un bel like al primo episodio per riuscire a raggiungere appunto e superare i 50 like ragazzi che era il numero di mi piace che vi avevo chiesto per avere appunto un secondo episodio quindi questo significa che vi è piaciuto, vi ha divertito perché io ragazzi si mi sono divertita tantissimo per quanto l'ultimo giorno effettivamente sia stato assolutamente un disastro economico epocale Però a parte tutto ragazzi come sempre se doveste volere un nuovo episodio su questo simulator mi raccomando ragazzi dipende tutto da voi Vediamo di riuscire a raggiungere almeno e superare ragazzi i 50 like so che ce la possiamo fare E quindi eccoci qua di Riturno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo giocato i primi tre giorni I primi due giorni erano andati devo dire relativamente bene Poi è arrivato il terzo giorno ragazzi che è stato letteralmente una disfatta allucinante Altro ho chiesto un prestito alla banca per comunque ragazzi aggiornare il negozio Perché? Perché eccoci qua nel nostro piccolo insignificante deprimente supermarket Perché ragazzi ho comprato un frigo La gente ovviamente si è lamentata ragazzi dei miei prezzi Bisogna chiaramente tenere conto anche del prezzo di mercato Quindi è vero che bisogna guadagnarci su Però bisogna anche far sì che la gente trovi convenienti per i nostri prodotti Per cui l'obiettivo attuale resta comunque quello di acquistare una nuova sezione Per espandere il nostro negozio Il punto è che la sezione dei due ragazzi costa la bellezza di 350 dollari Noi attualmente ne abbiamo 285 e quindi essendo di nuovo ancora poveri come la merda Perché siamo poveri come la merda Devo di non poterla comprare adesso Anche perché cioè io espando un negozio no? Questo negozio che già non c'è un cazzo dentro Che altro minchia ci dovrei mettere Ditemi ragazzi perché non lo so Quindi credo e temo ragazzi Che attualmente l'unica cosa che possiamo fare È aprire di nuovo per un'altra giornata Rifare un attimino lo stoccaggio Rivedere un attimino i prezzi E vedere come va Se riusciamo a guadagnare qualcosina Anche perché non ce li ho i soldi per espandarci Quindi comunque il problema non si pone Abbiamo poca acqua Non abbiamo più olio di semi Questa è una cosa gravissima ragazzi Il nostro negozio non può mancare olio di semi Perché sennò poi la gente come fa a farsi la pasta Pansati con l'olio di semi Quindi allora il prezzo del caffè attualmente ragazzi Però non ci siamo perché il prezzo di mercato è di 10,48 Per cui se comunque vogliamo renderlo un pochettino più competitivo Possiamo fare di metterlo a 12,50 Per ora non lo so ragazzi non lo so Io non ho una grande mente imprenditoriale Per cui allora io direi di abbassare un po' tutti i prezzi ragazzi Perché ovviamente sono un po' sopra il prezzo di mercato Per cui mettiamo a 6,99 Incredible Farta incredible Sopra il nostro tè Pasta panzati Il prezzo di mercato è poco superiore ragazzi Io direi di lasciarla così Per quanto riguarda la farina Cazzarola ragazzi Il prezzo di mercato è 3,71 Io la sta a vendere a 2,30 Ma anche no scusa Alziamo un pochettino il prezzo ragazzi Facciamo 3,20 Quindi bisogna tenere comunque d'occhio E sto bene detto prezzo di mercato Perché forse può salire Può scendere Il prezzo di mercato è 4,50 Ragazzi io direi che ci siamo Per quanto riguarda l'olio di semi Per quanto riguarda il latte Prezzo di mercato è 2,40 Al nostro 2,20 Per ora direi di lasciarlo così Perché è scontoni ragazzi Scontoni Quindi l'acqua 2,66 Prezzo di mercato Direi che ci siamo Per quanto riguarda il formaggio E la gente non ha fatto altro E lamentarsi del prezzo del mio formaggio Ma come fa a venirvi in mente Perché ovviamente è un pochettino superiore Al prezzo di mercato Per cui facciamo 3,99 Più o meno Magari già un pochettino più competitivo Che dite 5,50 le uova Per 3,98 Di prezzo di mercato Ragazzi Facciamo 4,50 Dai Vediamo se un attimino Abbassando sti prezzi Arriva un po' più di gente O comunque Cioè le persone cominciano a notare Che effettivamente C'è un certo risparmio Più o meno Nel nostro negozio Incredibile Allora se 25 per i cereali Direi che va bene Ragazzi Noi comunque Non siamo una grande catena Non siamo una grande catena Per cui che sia un pochettino Superiore il prezzo di mercato Secondo me ci sta Non eccessivamente Mi pare ovvio però Ragazzi Ragazzi Il costo Dello zucchero Sì sì È a 4,83 prezzo di mercato Ma mi pare ovvio Allora che facciamo La bellezza di 4,50 Ragazzi Che comunque Inferiore Comunque scontoni È a sconto È Uuu Ha aumentato anche il prezzo Del pane ragazzi Cioè ma qua Magari Magari Cominciamo a vedere Un pochettino di Profitto Adesso Adesso Che abbiamo riguardato Tutti i prezzi Ragazzi Dobbiamo restoccare Un attimino Nel prima cosa Assolutamente Olio di semi Ragazzi Che quella è la cosa Fondamentale Cioè il nostro negozio Ruota Ok Attorno all'olio di semi Allora Qua abbiamo acqua Direi di Restoccarla Ok Per una Non c'entra Che chiella Cioè posso tenere La scatola Come non può Certo che può Restocchiamo un attimino Lo zucchero Su su Che ha aumentato Il suo prezzo E gioco di Che ragazzi Direi di non spendere Tantissimo L'olio di semi Assolutamente La farina La farina Ce l'abbiamo Però comunque È bene avere Un attimino Di scorta In negozio Ragazzi Per il momento In cui comunque Bisogna Rimettere le cose Sugli scaffali Quindi Facciamo questo Piccolo Investimento Ricompriamo il latte Così a caso Il caffè Pane Farina Cereali Ok ragazzi Sto spendendo Praticamente la metà Del mio cash Che il cielo C'è la man di buona Ragazzi Perché Perché in attività Bisogna investire Non fa investimento Mamma mia Quanta roba Allora Pane Direi di rimettere Altro pane qua Visto che ci siamo Sti cazzi Cioè gli ho gli scaffali Facciamo vedere Che sono belli pieni Farina Di nuovo Farina Che dite farina Va bene farina Sì dai Va bene farina Che cos'abbiamo Il caffè Mettiamone altro Qua sotto Latte latte Guardate quanto Latte 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 Giustamente Poi noi lo conserviamo Quello che ci avanza Fuori frigo Così anche se diventa Arancido Poco importa Lo vendiamo lo stesso Poi la gente muore Ma fa niente Cherry alley Cherry alley Mettiamo altri Cherry alley Qua sotto Ragazzi Come sempre Per due Niente Ammucchiamo la roba qui L'olio di semi Cioè l'olio di semi È la vita Quindi Abbiamo rivisto Un pochettino I nostri prezzi Adesso Dovrebbe essere Tutto Corretto Mi auguro Ovviamente Di non avere altre Brutte surprise Signore Signori È arrivato il momento Dell'incredibile Quarto giorno Di apertura E tre Meno due Fa uno Go Forza e coraggio Signore e signori Il vostro supermercato Di quartiere Di fiducia Appena aperto Non c'è un'anima La signora La vedo bella determinata La signora è diretta Qui ragazzi La vedo La vedo La sua traiettoria E verso La nostra porta Per cui io la attenderò Braccia aperte Qui in casa Ho detto Buongiorno signora Ammazza E puppe Vediamo un attimino Che cosa compra Vediamo Vediamo L'olio Ah no Ha preso il caffè Boni 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 Non è ancora finito Ragazzi Oh Prima cliente del giorno Ammazza che spesa Mi piace Mi piace Questa signora Buongiorno a tutti Buongiorno Vediamo un attimino Quanta ha speso Ragazzi 43 dollari Mi piace 16 e 21 Ecco a lei signora Buona giornata La ringrazio Uh ok Andiamo giù Di farina e cioreali Signorina Mi ha dato il prezzo giusto Buona giornata Anche a lei Ma non cominciate con sta storia Che il formaggio costa troppo Perché vi ho detto già la scorsa volta Grattatevelo dai piedi Uova Devo dare un dollaro di resto Ecco a lei Buona giornata Via così Mi piace Mi piace Il prezzo giusto Pure a lei Buona giornata Questo sembra Agente Smith di Matrix Farina 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 9,60 Buona giornata anche a lei Signore Grazie Il fatto che sto formaggio costi troppo Mi ha rotto un po' le palle Ragazzi Ve lo dico sinceramente Mettiamola a 3,50 Il profitto è un po' più minimo Ma sti cazzi Solo i cereali Latte Latte e cereali Cereali e latte E' una combo Eh? No Ma siete già bello? Anche voi Perché fate schifo ugualo I cereali 43,75 Buona giornata Acqua Solo acqua Tutto sto resto E checchia Ecco a lei Buona giornata Uova e tette E uova Interessante spesa 15,99 Buona giornata Solo le uova Solo le uova Solo le uova Che dobbiamo fare? E checchia Quanto li ho Perché perdere solo una cosa? Fate un po' di spesa No? Abbassate i miei prezzi I miei prezzi Sono diventati incredibili Scusa E checchia Va la calla Ricominciamo Pezzi da 100 euro 94,40 Per lei Signorino Buona giornata Ecco Pacco di farina Te sei sprecato Pio mio 80,20 Buona giornata Buongiorno signora Anche a lei 55,20 Ecco qua Allora ragazzi La farina è finita Per fortuna Vedete Che significa avere la roba In gossip Questa cosa è importante Ragazzi Che altro è che sta finendo? Caffè C'è ancora tutto Perlomeno sembrerebbe Buongiorno Le è piaciuto il mio tè Davvero? Sono contenta Buona giornata Anche a lei Ecco vedete Questa spesa C'ha un più Un po' più De senso Cereali Caffè Sì sì Più senso di questo 23,25 Eh 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 Anche a lei 10 Oddio 10,50 Buona giornata Solo su su Non vuole altro Signora e buon uomo Niente Va bene Ok Qua lei 50 centesimi di resto Allora Devo dire ragazzi Mi sembra Che stia entrando Un po' più di gender Del solito Mi sembra Questo perché Secondo me Ho reso i prezzi Veramente ragazzi Un pochettino più competitivi Un po' più vicini A quelli del prezzo Di mercato Quindi Oh shit È finita l'acqua Abbiamo acqua per caso Una bottiglia sola Oh cavolo Accida la miseria Datemi un attimo Devo restoccare l'acqua Non c'avevo pensato All'acqua Ecco qua Spesa Arriva Arriva Arrivata Arrivata Abbiate un attimo di pazienza Arrivo subito da voi Però Se non metto l'acqua Poi è un macello Ok Lancia Puoi lanciare lì Latte Oh Finalmente Io credo sia il primo cliente Ragazzi Che mi compra Il formaggio Con te Da quando l'ho messo in frigo Grazie signore Grazie Mi ha dato pure i soldi giusti Cioè meglio di questo Buona giornata signore Arrivederci Oh Vedete Vedete Quando comprate un po' più di roba E Cioè E' bello 29 E Quarant 6 Ecco qua E vabbè Io ho dato niente Che che ha detto Non riesco a trovare Come non riesco a trovare acqua in bottiglia Ah forse l'ho restoccata dopo Scusate Accendo la luce Perché se no Non ci si vede Magari poi vedo pure il resto sbagliato Che bella spesa signora E mi paga con la carta Grazie 18 e 30 Buona giornata Uuu Finalmente qualcuno che compra il mio olio di semi Ecco qua Un dollaro di resto Ecco a lei Buona giornata Oh Che belle queste spese Sono contenta Ma no Del prezzo giusto Buona serata Costa troppo Ma vattela a piander Ok Ecco qua Guardate che bella spesa Anche questo signore 27,98 Pasta pansati L'hai piaciuta la pasta pansati signora 8,60 Buona serata Continuo a dire buona giornata Ormai è buona serata Ma non fa niente Prezzo giusto Arrivederci Arrivederci Che entra da fa Eh 2,80 Ecco qua Buona serata Allora ragazzi A meno che non entri L'ultimo cliente del giorno Come se Ah Ah Mi ha preso l'olio di semi Mi basta e mi avanza Mi basta e mi avanza Anche se mi è entrata Alle 9 di sera Non mi interessa Mi ha preso l'olio di semi E pure il formaggio Le voglio tanto bene signora Ha rallegrato ancora di più la mia giornata Eeeh La miseria Allora va il formaggio Com te Va 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 Ecco qua Perfetto Allora ragazzi Abbiamo finito questa nuova giornata Devo dire di essere abbastanza soddisfatta Non si azzardi ad entrare che siamo in chiusura Di essere abbastanza soddisfatta Perché comunque i clienti ne sono venuti Adesso vedremo quanti Vedremo se Eeeh Sono riuscita ad andare un attimino in positivo Anche se c'ho i miei rubi Perché stavo sotto di parecchio ragazzi Allora intanto facciamo questa cosa Vabbè il restoccaggio Lo facciamo domattina ragazzi Sono troppo curiosa Finiamo il giorno E voilà Ah è sempre il solito numero Le clienti Niente da fare ragazzi Pensavo Fosse venuta Un po' più di gente Capito niente I sette Quindi clienti totali Soddisfatti di venti quattro E due prodotti troppo costosi Penso che comunque sia una media Un po' più bassa Rispetto agli altri giorni Mi pare ovvio E per quanto riguarda ragazzi Le entrate La bellezza di 300 Cazzo ma sono dimenticata Le bollette Vabbè le hanno scalate automaticamente Entrate 362 dollari Spese Bla 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 Affitto Fatture vengono scalate automaticamente Quindi profitto totale ragazzi Di 201 dollari Yeah Dopo l'ultimo giorno Direi che Ci siamo capiti no Quindi Prezzi del mercato Cambiati Attenzione Per quanto riguarda Il formaggio Ok Il prezzo del mercato È stato abbassato ragazzi Il punto è che Se io abbasso troppo Veramente il profitto È un po' Ah ah Però Però Siccome siamo imprenditori Intelligenti E vogliamo attirare I polli Nel nostro negozio Per farci pagare Il cash Ovviamente dobbiamo cominciare A rendere i prezzi Un pochettini Più competitivi Ragazzi Quindi Adesso Da bravi Imprenditori Aspettate Aspettate Allora Adesso potrei comprare Ragazzi La nuova sezione Per il negozio Però Il problema È che se la compro Non avrò più soldi Per comprare prodotti Restoccare Non avrò comunque soldi Per mettere Nient'altro Dentro il negozio Che c'è Anche Robin Mi dà ragione Vedete ragazzi Però Robin Devi capire Che queste Sono tecniche Di mercato Amore mio Risaluta Le giunti Ormai è un appuntamento Fisso Capisci Queste sono tecniche Di mercato Cipi Cioè se io adesso Spendo per Allargare il mio negozio Poi però Devo aspettare Il giorno dopo I nuovi guadagni Per poter comprare Nuove cose Quindi allora Io direi Di essere un attimino Saggi Vedere che cosa Dobbiamo comprare Per rimettere La roba Ragazzi In negozio Allora Cereali Direi che ne abbiamo Abbastanza Per lo meno Per adesso Per l'apertura Ragazzi Dobbiamo pensare All'apertura Ok Pane Non se l'è comprato A un cazpito Di nessuno Dopodiché Olio di semi Il mio olio di semi Ragazzi Va a ruba Che altro abbiamo qua Il latte Quindi per iniziare La giornata Devo ricomprare Farina Pasta Pansati E uova Per lo meno Per avviare La giornata Ragazzi Quindi compriamo Prima la roba Che dobbiamo mettere Sugli scaffali Farina Pasta Pansati E uova Le uova Le uova Le uova Oh che bello Guarda Rimettiamo qua Le uova Rimettiamo qua Le uova Qua le uova E qua le uova Vabbè Pasta Pansati Eccola qua E la farina 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 La farina Farina La rimetto anche No non la metto Perché l'ho finita Non so ragazzi Se fare sta follia Adesso E comprare Adesso La sezione Per il negozio Intanto Fatemi vedere Una cosa Come lettore musicale Possiamo mettere Anche la musica Nel nostro negozio Se compriamo L'altoparlante Poi Tons 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 Parapuns Parapuns Adoro ragazzi Cioè sto gioco È fatto troppo bene Mi mancano ancora 22 giorni Per finire Di pagare La banca Allora Costa 350 Ragazzi La nuova sezione Rimarremo di nuovo Col culo A terra Queste saranno Le fatture Da pagare oggi Allora Un imprenditore Deve anche Rischiare Ragazzi Io direi Di comprare Adesso La sezione 2 Rimanere di nuovo Poveri come la merda Ma questo poco importa Perché è sempre In visione Di raggiungere L'Olimpo Nei supermercati E Sperando Ovviamente Di avere Un buon guadagno Oggi Poi Dovesse finire Qualche prodotto Ragazzi Nel frattempo Ricompriamo qualcosa Ma Ma Questi sono passi Che bisogna Fare Senza paura Oh E soccose Però passi Che fanno male Oh Guardate un po' Ragazzi Adesso Come è diventato Più grandicciato Il nostro negozio Adesso farà Ancora più Perché non ci sto Ancora Penso che Sarà ancora Più deprimente Di prima Ragazzi Ma Noi non ci facciamo Abbattere Assolutamente Quindi mettiamo Qua il frigo Possiamo gli scaffali Ragazzi Per Dare un'aria Un pochettino Più Ordinata Abbiamo più Spazio E questo Si è capito Poi non ci sta Una minchia Di niente Un altro Poi rimani Che allontano Un pochettino La cassa Dal muro Incrociando Tutto L'incrociabile Ragazzi Direi Di non perdere Più tempo Di dare Il via A questo Nuovo Incredibile Giorno Nella mia storia Da imprenditrice Forza e coraggio 3-2-4-1 Go Spero che vada bene Perché dobbiamo Riguadagnare Ho parecchia Fifarella Se vi devo dire Sinceramente Quindi Signore Signori Forza e coraggio Il vostro supermercato Di fiducia Aperto E una nuova Piccola inaugurazione Perché il negozio È più grande I prodotti Sono gli stessi Pasta Ah no Ha preso il tè Pensavo stesse Prendendo la pasta Pansati Si è sprecato Speriamo che arrivi Più gente Ragazzi Veramente Cioè Sono Sono preoccupata Ma vattela Piande Le voglio bere Ma la odio Perché ha preso Il mio olio di semi Palle Quando dicono così Ragazzi Perché costa troppo Quanto sta più in alto Rispetto al prezzo di mercato Abbassiamolo Facciamo 10,99 Va 10,99 Uuu Amo quando prendono L'olio di semi Forza forza Fate una bella spesa Ogni tanto No Altro olio di semi Comprare l'olio di semi Uuu Ecco Vedete Questa per esempio Era una bella spesa Pensavo a essere spesa Un po' di più Sinceramente Che palle 17,50 Mio Olio di semi E formaggio Come se non ci fosse un domani Le devo dare 50 centesimi Ecco a lei Buongiorno Signore Buongiorno Allora il formaggio è quasi finito Ragazzi Qua non ho formaggio Vero No Non ho formaggio Quindi Il formaggio Pare che se lo stiano comprando Quello che avanzerà Verrà conservato Ovviamente Fuori frigo Quindi ecco qua Mannaggia per uno Che palle Vabbè lo metto qua sotto Ragazzi Eccomi eccomi Signore eccomi Buongiorno Buongiorno a lei Quindi 20 e 44 Dai non male Non male In concarta signora Certo E sto formaggio va Cioè improvvisamente Cucci De botti Improvvisamente La gente compra il formaggio Perché? Perché giustamente hanno provato La grattugia sotto i piedi E si sono fatti due domande E 71 Ecco qua Buona giornata 14 25 Cioè ma non può arrivare Uno Dico io che spende Tipo 40 dollari 50 dollari Cioè che viene qui A fare la spesa Della sua vita Sembra di no 22 98 Case signore Buona giornata Che pallonze ragazzi Che pallonze Cioè una bella soddisfazione Che te stai qui in casa Arrivare un tizzo Che ti riempi il nastro Di roba 50 dollari 60 dollari Chissà se mai arriveranno Quei tempi ragazzi Quei momenti In cui arriverà uno A fare una spesa Di 100 dollari Eccomi qua Olio di semi E' simpatica La signora E mi paga il giusto Buona giornata Sì sì E pansati Che balla combo 15 e 40 Buona giornata Che cosa è finito? Il mio olio di semi Sta per finire ragazzi L'olio di semi Ho detto Non deve mai mancare In questo negozio Ecco qua L'olio di semi Adoro L'olio di semi Ce ne entra ancora uno Eccomi qua Buongiorno signora Non dico niente E' qua a spendere 3 euro e 20 Per un misero Quanto pane 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 Olio di semi 80 centesimi Buona giornata La ringrazio Quanto pane Si sta a vendere Non affollatevi Non affollatevi Non affollatevi Va bene Buongiorno Pasta pansati Quando vendo la pasta pansati Sono contenta Io credo ragazzi Sia venuta poca gente La farina Mi è quasi finita Qua non ho farina Vero? Oh shit Non ho farina Ma vaffanbeffero Pure te Va Costa troppo Costa troppo Un capo A vedere i prezzi Dei grandi supermercati Come fate a dire Che i miei prezzi Sono troppo alti Siete cattivi Mannaggia la pupa È commovente Signore grazie Che bella spesa Questa è una bella spesa 32 dollari 85 centesimi Oggi il mio povero cuore potrebbe non reggere Potrebbe non reggere tutto ciò 37 dollari e 60 Mi era da piangere ragazzi Veramente Tu hai qua ragazzi Grazie Addio non ci si vede più Aspetta aspetta Si avvicina all'orario della chiusura ragazzi E non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Ovviamente Di vedere già oggi Tutte queste spese È così bello È così bello Mi cadono le lacrime Adoro 33 giusti Grazie signore Grazie Poi te vengono questi Che comprano solo la cosa Però te pagano giusto Ogni un bacio a su Ok E la madda 86 e 75 a lei Buona giornata Pasta pansati Le è piaciuta la qualità Della pasta a pansati Ah signora Che dice Ho finito il tè Oh cazzarola Vabbè ormai siamo in chiusura ragazzi Ormai siamo in chiusura Non c'è più niente da fare Però lì È un po' buio Pasta a pansati Anche l'era Pasta a pansati 11 e 15 Buona giornata Ma si possono spostare le luci No Possiamo spostare anche le luci Ma adoro questa cosa ragazzi Fantastico Ecco qua Oh così adesso È un pochettino più Gli angoli bui a me Mi mettono un po' di tristezza Guarda avviciniamo un po' La perdono solo se fa almeno 30 dollari De spesa Io lo dico Perché sono passate le 9 eh Signorina Mh Mi ha preso l'olio di semi Pasta pansati Va bene Quanto ha speso 24 E me paga pure con 100 dollari Ma con c'è tu madre 21 Ecco qua Salve Allora È il momento della verità Paghiamo le bollette Ce le scalano lo stesso Quindi via e via Che dire Questa espansione È stata comunque importante Perché segna l'inizio Di un qualcosa di nuovo Per il nostro supermarket Che comincia a ingrandirsi Giusto? Che poi non ci sia niente all'interno Un altro paio di maniche In ogni caso ragazzi Allora Il restoccaggio lo facciamo ovviamente domattina Però 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 Cioè non so quali sia effettivamente il risultato di questa giornata Perché non riesco mai a capire se entra più gente o meno gente È arrivato il momento? Eh eh Di vedere Clienti totali 24 Quindi più o meno la media è sempre quella Anche se ieri era entrato un po' più di gente Prodotti troppo costosi Prodotti non trovati Quest'oggi ragazzi ovviamente dobbiamo considerare Che abbiamo pagato 350 dollari Di miglioramento Profitto totale meno 18 Quindi oggi siamo un pochettino in rosso Ma solo Che c'è amore mio? E viene mi miagola in faccia Mi miagola in faccia Con prepotenza Lì siamo un pochettino in rosso Ma solo perché abbiamo fatto questa espansione ragazzi Ok quindi Che è successo? Si è alzato il prezzo dei cereali Lo alziamo subito allora Scusa 6,99 È un po' competitivo Ma ci abbiamo comunque un po' più di profitto Allora Ragazzi Io adesso ero curiosa di vedere una cosa È porca paletta Allora perché volevo comprare Ovviamente Nuovi prodotti Costano 400 dollari Cioè la licenza costa 400 dollari Però per avere Burro ad arachidi Una nuova farina Olio d'oliva Quindi non avremo solo olio di semi ragazzi Avremo anche olio d'oliva Cioè due varietà d'olio Che cioè Poi spaghetti Quindi non solo pasta panzati Che sembrano penne o roba del genere Ma anche spaghetti Poi riso basmati Ragazzi Quindi una nuova qualità del prodotto È il sale Quindi oltre ad avere Sì sì Avremo anche il sale Ah questa cosa Mi intriga non poco ragazzi Il punto È che si tratta Della bellezza Di sei nuovi prodotti Spazio potrei avercene Effettivamente Senza dover comprare Per forza Nuovi scaffali Perché il mio dubbio Era quello Ok Il punto è che Se adesso compro la licenza Non c'ho un euro Per Restoccare comunque il resto Questa è non poco grave Non so che fa Sono in crisi Se quando c'hai i debiti da pagare Non ci puoi fare una mazza Pezzi povero La roba che avevo in più L'ho messa Temo di dover fare Almeno un'altra giornata Comprando i prodotti Che ho adesso E puoi comprare Una nuova licenza Perché Se no mi sa che Veramente non ce la faccio Ragazzi Andrei troppo in rosso Allora Devo comprare Tè Panzati Cereali Formaggio Allora Intanto Tè Panzati Cereali Ok Per ora Compriamo sta roba Vediamo un attimino Com'è la situa Cereali Che è stato aumentato Il passo Dopodiché Pasta Panzati La migliore della città Niente C'è una scatola in mano Non ci puoi mettere la roba dentro Ma vittì Mettiamo il tè Che viene tutto così Bello Messo Ordinato Quanto a ballo Ok Perfetto In questa scatola Almeno il caffè ci entra Non là sotto Ma qua sopra Ok Devo ricomprare il pane Almeno Il formaggio Pane E formaggio Formaggio E pane Ok Ecco qua Conservato Bellamente Fuori frigo Come al solito E la politica del nostro negozio E pane Pane Come se non ci fosse un domani Allora ragazzi La roba L'ho rimessa Devo guadagnare Un po' Se no Devo richiedere un altro prestito Alla banca Il problema Il problema è che non ho ancora finito di distinguere quello di prima Come cavolo dovrei fare Fai Apri Apri Vengono signori Vengono I prezzi Volevo un attimino di controllare i prezzi Facciamo ragazzi 4 e 25 Dai Che sembra che gli stai a far regalo Incredibile Abbassiamo un po' ragazzi Il caffè 10 e 20 Così a caso Il tè Ha detto che è troppo caro Giustamente Porca paletta Dai 5 e 20 Dai Dai Dobbiamo Dobbiamo abbassare i prezzi Ragazzi Perché se no La gente non compra L'acqua Porca miseria Troppo cara 2 e 50 Il formaggio Abbassiamo 2 e 99 Che palle ragazzi Oddio mi scusi Stavo Stavo aggiustando un attimino i prezzi Abbassiamo pure le uova 3 e 65 Così a caso Completamente a caso Perché se no la gente poi rompe le palle È troppo caro per me È troppo caro per me Mi vattene a piandere Buongiorno Buongiorno a lei signore Buongiorno Ok 3 e 10 Buona giornata Forza Perché non entra gionte Oh Gli olisemi Le voglio molto bene signore Molto molto bene Lo sappia E 2 e 65 a lei Ho capito che è panzati Però Compri qualcos'altro Pasta con olio di semi Hai mai pensato Accidenti Niente Pure questa ha preso solo una cosa Che depressione Ma non potete Non potete farmi questo Vi prego Se no vado in bancarotta Poi un casino Un disastro Compri 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 Pansati Pasta con olio di semi No ha preso il caffè Pasta e caffè 1 e 90 a lei Buona giornata Tè e farina Va bene 13 e 60 Vabbè fin quando comprano Ragazzi A me va bene Però Ce ne sta appunto Quel momento Come ieri sera In cui arriva il genio Che ti fa una spesa Bellissima Ti riempie il nastro Della cassa E tu sei lì Con i lucciconi agli occhi L'idea del cash Ecco qua Buona giornata Venghino signori Venghino Che devo fare Mi devo spogliare nudo Per farvi venire qui nel mio negozio E attirarvi un pochettino Signore Pasta Pansati A lei signora Lei 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 la vedo parecchio determinata Prego Si avvicini Entri pure nel nostro negozio Olio Se me comprano l'olio Sono contenta Ma comprate anche altro Vi prego Vabbè Questa non male Non male Bella spesuccia Dai Mi ritengo satisfecia Allora 8 e 80 Buona giornata Anche a lei signore Comprate Comprate Olio di semi Olio di semi Non male questa spesuccia 98 Belli precisi precisi Wuhuu Ok Queste spese mi piacciono 4 e 5 a lei Buona giornata Ok Pasta Pansati E un'altra con 100 dollari Sbam Proprio qua Ecco a lei Il resto giusto e preciso Gesù Giuseppe Eppure Maria Oh my god Finalmente Una spesa digna di questo nome Ok 31 dollari 24 Scendesimi Solo farina Che cavolo c'è deve fare quella farina Se la deve sniffare Ecco qua Buona giornata Cosa sta per finire ragazzi Prima che mi vengono a dire Oh non ho trovato questo Beh beh Ok Bella spesuccia Adesso Abba Porca miseria Ogni volta ragazzi Era botta qua 74 e 12 a lei Buona giornata E grazie a lei Ok 32 centesimi Proprio precisi 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 Rimettiamo un po' di formaggio I cereali Ecco qua Che si è rabbassato il prezzo Che manca Ho finito lo zucchero Sì un attimo Non vi lamentate Aspettate eh Non vi lamentate che non trovate cose Un attimo Mi dovete dare il tempo Di rimetterci le cose Ecco qua Guarda com'è bello Com'è bello Eh è finita la farina Ragazzi è finito il caffè Sono nella merda Uh che bella spesa Ah Ah È così bella Quanto avrà speso questa E la madonna Oh Finalmente Una spesa Oddio ragazzi Sta entrando troppa gente Non c'ho più roba 54 e 47 Ecco A trovare caffè E voleva altro caffè Ragazzo non è la cacca pupù Devo avere le scorte Devo avere le scorte Perché poi la gente Non trova le scorte Eh porca miseria Un'altra volta Ecco qua Buona giornata Amore sicuro qualcun altro Si lamenterà ragazzi eh Ah Mi era finita la roba Vedete Le uova Uh ha preso l'olio di semi 17 e 84 Eccolo qua E olio di semi Adoro 11 e 74 Comunque siamo quasi in chiusura ragazzi eh Abbiate pazienza Ha preso l'olio di semi Minchia non c'è più niente in frigo Pazzesco Pazzesco ragazzi Pazzesco Allora oggi forse è stata veramente una buona giornata Lo so che non avete trovato cose Però siamo in chiusura signore Abbiate pure un attimino De pazienza però eh Ok ragazzi Allora Bani Perché ragazzi Cioè i miei discorsi finali Di fine giornata da fare Non mi può interrompere in questo modo Per due centesimi di resto E non riesco a trovare il formaggio Sono gratti dai piedi come sempre Allora ragazzi Io credo che oggi sia stata una buona giornata Credo Il problema è che i clienti insoddisfatti Non so se possono essere un problema o meno Quindi Dovremmo ricomprare un sacco di roba ragazzi Perché è finito veramente tutto Oh il pane Stavo per buttarlo Ecco qua Ma io ho assoluta intenzione ragazzi Di comprare la nuova liscianza Cioè come faccio a non comprarla Dai Allora devo ricomprare praticamente tutti i prodotti da frigo La farina L'olio Il caffè Uh qua ci abbiamo dell'acqua però Attenzione Ah ah Eccola qua Perfetto Ovviamente come sempre ragazzi Il restoccaggio lo faremo la mattina Perché adesso è tardi Siamo stanchi Estremati È dato questa resta Incredibile Arrivato il momento Vediamo 25 clienti Come sempre ragazzi Prodotti non trovati 6 persone Questo è stato ovviamente Verso fine giornata Purtroppo E che dire Abbiamo un profitto totale Oggi Di 270 dollari Quindi allora Prezzi del mercato cambiati Su su e acqua in bottiglia Eh beh 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 Direi di aumentare il prezzo di su su e acqua in bottiglia Anche 250 direi che va bene Facciamo vedere un pochettino di sconto incredibile Allora ragazzi Adesso Con i soldi che abbiamo Credo proprio che sia arrivato il momento Aspettate un attimo Fermi Aspetta 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 Le fatture Ah vedi Non le avevo pagate Che palle O basta che te scordi un giorno Pensavo che le scalassero automaticamente Vabbè Allora Il punto è che compri la licenza prodotto Ma non compri i prodotti E io adesso c'ho il negozio praticamente vuoto Mi ritrovo sempre allo stesso punto Che palle Però non posso chiedere altri prestiti ragazzi Prossimo prestito alla banca Livello 10 Vuoto 10 Regà Devo Allora Prima di tutto Penso che la cosa fondamentale primaria Sia restoccare tutto Quindi Farina Caffè E tutta roba da frigo Non c'è mai fine Compriamo tutto Restocchiamo tutto Ma guarda che bella Che bella torre che hanno fatto Forse Voglio essere positiva Paraparaparaparà Il latte Il latte Le uovo Le uovo Le uovo Le uovo Le uovo Le uovo Il coffee 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 Le fromage Sì sì Le fromage Dopodiché La faraina Il punto è Che poi non ho scorte Cazzo Allora mi è finito pure l'olio La pasta Non posso comprarla oggi La licenza Il punto è che Ebbene sempre avere le scorte In negozio No per restoccare tutto Però Non ce la faccio Non ce la faccio A risalire Non so che fare Veramente È terrificante Questa cosa Non so come riuscire ad andare in positivo A tal punto Da riuscire a comprare La benelettissima Benelettissima Licenza Nuova Uffa Allora Niente ragazzi Devo fare una cosa Pazzesca Una cosa Pazzesca Ricomprare Tutti i prodotti Averceli da parte Il più possibile Cosicché Poi il guadagno Che avremo Magari ci permetterà Il giorno successivo Di comprare La maledetta licenza Il giorno successivo Ancora Di comprare Magari un altro frigo Un altro beneletto Scaffale Per poterci mettere Noi prodotti Quindi Facciamo una follia Ragazzi Praticamente Tutto Ok Ah non posso comprare Più di dieci prodotti Facciamo questa follia Così ce li abbiamo Qua da Eh Mamma Li avete buttati Tutti come se fossero Merda Ma perché Siete cattivi So che Probabilmente La riterrete Una follia Ragazzi C'avevo ancora Una scatola di cereali Ma poco importa Più prodotti abbiamo Da parte Meglio eh Ho ripreso Praticamente Oddio Ho ripreso Praticamente Tutto ragazzi Non mi cammini Sui prodotti Ma come si permette Io Devo Sperare Che tutto Questo caos E questo schifo Qua in negozio Siano La La trovata giusta Ragazzi Lo devo solo sperare Guardate che bello Che bello spettacolo Raccapricciante Tutto ammucchiato Tutto buttato Ok Che il cielo Ce la mandi buona Terzo giorno Per oggi Via Si apre Forza Signori e signori Siamo in apertura Siamo in apertura Siamo in apertura Oddio di semi Di nuovo Incrociamo l'incrociabile Io quello che spero Sempre ragazzi È che arrivi più gente Però probabilmente Avendo sempre gli stessi prodotti Probabilmente il numero di persone Che entrerà Sarà sempre lo stesso Forse comprando noi prodotti Arriverà altra gente Non lo so 3681 Buona giornata E la ringrazio Che tristezza ragazzi Io pensavo di essere così incredibile Per gli affari E invece Tè e caffè Vai Come se non ci fosse un domani Ecco qua Mettiamo tutto qua Arrivo eh Ambiate un attimo di pazienza Per favore Grazie per l'attesa Oh Guarda che bella Spesuccia La ringrazio signore 37 Oddio 3000 Anche no C'è Le suoto la caffè Oh la madonna Che bella pasta Pansate i caffè Quanta bella roba È prezzo giusto Speso più 50 dollari Ragazzi Che bello Non si sente Disfigurare Un attimino Dopo la spesa Della signora 220 Ok Uh Olio di semi Ah Stavo per dire Amo quelli che comprono Olio di semi Ma poi mi dà Sta sberla Di 100 Cazzo Ecco qua Buona giornata Iiii Quanto caffè Quanto tè La vedo parecchio nervosa Signorina Che dice Troppa caffeina Troppa teina Ecco qua 537 Buona giornata Uh 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 Altra una slip Un'altra volta 600 Che palle Ok Adesso Pasta panzati Col formaggio Mua Viene una cosa Incredibile Signora 1618 Buona giornata Buona giornata Anche a lei 1684 Buona giornata Allora Devo andare riempendo Ragazzi Piano piano Ogni volta che vedo Magari che la roba Diminuisce Meglio riempire Perché Poi magari Uno non se ne accorge Che manca Scusate Arrivo Formaggio è quasi finito Mai Mai Finiscono le cose In questo negozio E' piaciuta la farina Mi sembra 1480 Salve Salve Uova Uova Volontà 14 e 15 Eh sì Ho sbagliato Un attimo Un attimo Ho sbagliato Ecco Sì sì Va bene Ok Sì sì Olio I semi E pansati Cioè Che super mega spesa Incredibile Salve signore Buona giornata Allora Che manca Poca acqua Poca acqua Dopodiché Che manca Latte 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 Perfetto Le uova Le uova Le uova Le uova Ok Perfetto Almeno Ho svuotato Una scatola La posso buttare Buongiorno signore E' un amante Della pasta Pansati Oh il prezzo giusto Buona giornata Salve Prezzo giusto Glielo do lo stesso Ma mi ha fatto un po' schifo La sua spesa Caffè Caffè Olio di semi Quanto olio di semi Ha preso Uh Due Pensavo un po' di più Vabbè dai Mi fa piacere lo stesso Grazie signore Ciao Ecco qua Ehi Che bella spesa Signora mia Grazie Prezzo giusto Buona giornata Salve Zucchero su su Sta per finire Lo zucchero su su Ragazzi Non può finire Lo zucchero su su Forza 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 Ecco qua Guardate che bello Quando gli scaffali Sono pieni Cioè praticamente Non gli dobbiamo dare La possibilità di rifiatare Pratico Olio di semi E pasta Pasta e olio Cinque Ecco qua Buona giornata Pane e uova 10 e 65 E che a me sembra sempre ragazzi Che venga un botto di gente Ma poi in realtà Arriva sempre la stessa gente Finita pasta pansati Pasta pansati Dov'è pasta pansati Aspetta che ci rimette l'olio Intanto Ma è finita pasta pansati Non mi dica Non avevo ricomprata la pasta Non è possi Quanto olio C'ho Dov'è la pasta Dov'è la pasta Sto andando in crisi Mi serve pasta pansati Che la gente la adora E d'altra volta E avete rotto Le pallozze Ok ecco qua Guarda che bella spesuccia Che ha fatto Questo signore Ammazza quant'è alto 26 e 85 E no E 85 Ecco qua Ok ok Mi sembra che la gente Compri un pochettino Più di roba ragazzi Questa cosa Mi rende molto felice Ecco Poi ti arriva quello Che ti prende solo la farina Ad esempio Buona giornata Olio di semi Adoro E farina Un'altra Ma che è Prezzo giusto Grazie signora Buona giornata Oggi la gente Non può dire Di non aver trovato I prodotti ragazzi E mi sembra Di aver notato Che nessuno Si sia lamentato Dei prezzi troppo alti Almeno mi auguro Olio di semi Cioè ogni volta Vedo l'olio di semi ragazzi Mi si illuminano gli occhi Anche se è sera Ok Pasta pansati 26 e 80 Ok Ci siamo Dovremmo esserci Non è che entra come al solito Il furbone Dell'ultimo minuto Alle 9 di sera Ok ragazzi Allora Io credo Che questa storia Del comprare Più roba Eccetera eccetera Avere comunque La scorta Inizio giornata Penso che non sia Una gattiva trovata Il punto è Che adesso dovremo vedere Pagherò le mie cose Tra l'altro Perché Ok Per ora non c'è niente Da pagare Dobbiamo vedere Quanto effettivamente No Quanto effettivamente Abbiamo guadagnato oggi Quanto comunque dovrò Ricomprare roba domattina Cioè regà Che palle Che palle Perché io voglio nuovi prodotti Voglio comprare nuovi scaffali Voglio mettere nuova roba Qua dentro Così continua ad essere Un po' deprimente Non credete Cereali C'è una quantità Industriale Di cereali Latte Latte Non se l'è comprato Un'anima De nessuno Olio di semi Sempre tanto venduto L'olio di semi E poi qua Il tè Caffè mi è finito Ragazzi Quindi dovrò comunque Ricomprare il caffè Vabbè Allora Fermi 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 Vediamo come è andata Questa giornata Fermi 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 Allora Sono venute 27 persone Nessuno Nessuno Ha potuto lamentarsi Né Di prezzi troppo alti Né Di non aver trovato prodotti Adoro E questa cosa è bellissima Costi di fornitura Tu puta madre Perché ho ricomprato Mezzo mondo ragazzi Oggi un misero guadagno Di 20 dollari Che palle enormi Ragazzi Allora Attenzione I prezzi che scendono I prezzi che salgono Latte Cereali E pane a fette Meglio guardarlo subito Se no poi di sicuro Mi scordo Il prezzo del pane È aumentato Ragazzi Mettiamolo A 3,99 Cereali E latte Diceva Mi sa Ok cereali Sono scesi Ragazzi Quindi 5,99 E latte Ricordo A me sembrava Avesse detto latte Ma vabbè Mi sa che il latte Lo devo abbassare Un pochettino Comunque ragazzi Troppo Troppo alto Ok 1,99 Allora Per il resto Per il resto Dovremmo esserci Quei prezzi Ragazzi Allora Che dire Che dire Che dire Io ovviamente Adesso sarei tentata Di comprare La licenza Per i nuovi prodotti Il problema Può rimane Sempre lo stesso Ragazzi Cioè Non avere comunque Poi soldi Per comprare I nuovi prodotti Ne ricomprare I prodotti Che abbiamo Attualmente In negozio Quindi Io adesso Mi trovo In una situazione Di stallo Dalla quale Non so Se riesco Ad uscire Perché più Comunque Comprere Prodotti Per restoccare Roba Meno soldi Avrò E comunque Meno guadagno Avrò Cioè Regà Questa è una situazione Proprio di cacca Di cacca Per cui se avete Qualche suggerimento Ovviamente Ragazzi Vi consiglio Di lasciarli Qua sotto Prima di tutto Seconda cosa Vi ricordo Ragazzi Che questa può essere Una serie Veramente Molto Molto Figa Perché Questo gioco Per ora Nonostante i suoi problemini È fatto veramente bene Ragazzi E quindi Voglio vedere Fino a dove Riusciamo a portare Il nostro Impero Di super market Ragazzi Quindi se anche voi Volete Vederlo Mi raccomando Ragazzi Di nuovo Lasciate un bel pollice In su A questo video Per oggi Ci fermiamo qua Curiosissimo Comunque Di continuare Per vedere Di sbrogliare Questa matassa Perché comunque Ci dobbiamo ingrandire Ma non è così facile Come sembra Quindi questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione E updosh A tutti ragazzi Da giocherina Ciao